Sì, che c'è il trucco. Secondo voi quante sono le persone felici in questo momento? Magari qualcuno non vuole essere salvato. Magari qualcuno lo deve lasciare stare. Siamo morti? C'è anche un bambino? Sì. Noi ci ricorderemo di noi. Arian. Arian. Dov'è mia figlia? Lascia che lo fare. Ma non si può. Nessuno ti può vedere. Sono io che non voglio vedere lui. Secondo te possiamo morire due volte? Anche più di due. Il tempo a noi non ci serve. Invece sì. Il tempo porta via il dolore. Chi ti dà il diritto di entrare nella vita delle persone in un momento come quello? Può vedere la vita senza di noi è doloroso sempre. E non perché è bella o brutta. Ma perché va avanti. Va avanti comunque. Il tempo. Il tempo che fa avanti. Grazie.